Ah, va bene. Allora, molti anni fa, quando ero ancora un umano, stavo uscendo dal negozio con quattro piccole tartarughe. Ma quelle siamo noi! Sì! Non interrompere! Quando ho incrociato un uomo per la strada, ho avvertito qualcosa di strano in lui. E ho deciso di seguirlo. Che ci fai qui? Sì, questo posto non è il posto giusto se diciamo che non puoi stare in questo posto. Da te siamo stati visti in questo posto, perciò questo non è un posto che da te verrà lasciato. Così è iniziata la nostra vita insieme. È stata la sostanza misteriosa presente qui dentro che per certi versi ci ha fatti nascere. Mamma! Così è iniziata la nostra vita insieme a chi ci ha fatti nascere.